Buon giovedì da Beirut. Oggi ripartiamo dalle trattative che si sono fermate al Cairo. La delegazione di Hamas, che si trovava in Egitto da domenica per negoziare una tregua nella striscia di Gaza, oggi infatti ha lasciato la capitale egiziana. I negoziati tra i rappresentanti di Hamas, Egitto, Qatar e Stati Uniti riprenderanno quindi la prossima settimana. Di conseguenza non ci sarà una pausa dei combattimenti per l'inizio del Ramadan. Ecco, ieri mi avete chiesto perché fosse così importante arrivare a un accordo entro quella data. Beh, devo dire, è un'ottima domanda. Non c'è una risposta univoca e precisa, però diciamo che prima di tutto è una questione simbolica, ovvero fermare il massacro entro una data certa e vicina, cioè il 10 marzo. Ma ci sono anche altri motivi. Prima di tutto il Ramadan è il mese più sacro per i musulmani, lo sappiamo, e tra i precetti da seguire c'è il digiuno tra l'alba e il tramonto, una condizione che richiede molto impegno e che sotto le bombe e circondati da acari armati, soldati, cecchini diventano insostenibili. E poi il Ramadan è anche un mese dedicato alla beneficenza. Di conseguenza è probabile che le raccolte fondi per Gaza aumentino durante il mese sacro da parte di tutti i musulmani in giro per il mondo, ma ecco, senza un cessato il fuoco, niente di quell'aiuto arriverà a chi vive nella striscia. Quindi sono diverse le motivazioni. Intanto, martedì, il governo italiano ha annunciato l'avvio dell'iniziativa Food for Gaza, in coordinamento con la FAO e con il World Food Program per portare aiuti umanitari e alimentari a Gaza in modo più ampio e coordinato. Queste le intenzioni. Non si conoscono oggi le modalità operative, ma è un'iniziativa da seguire, visto che l'Italia finora è stata molto allineata con Israele, però ora chiede a sua volta un cessato il fuoco immediato. Andiamo invece in Libano. Dopo una notte piuttosto calma sul confine tra Libano e Israele, questa mattina la protezione civile libanese ha ritrovato il corpo di Rabi al-Yassin, un civile libanese di 29 anni ucciso ieri da un attacco israeliano contro la sua casa a Vaira, nel distretto di Tiro. Di lì, da quel momento, gli scontri si sono di nuovo intensificati e oggi Israele ha colpito diversi villaggi sul confine, mentre Hezbollah ha lanciato dieci razzi contro Rocha Nikra nel nord di Israele, nove dei quali sono stati intercettati dall'Aeron Dome, il sistema di difesa antiaerea israeliano. L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato i siti di lancio di questi razzi. Ecco, vedete che la spirale è sempre la stessa e senza che la politica intervenga non ci sono prospettive di de-escalation. Andiamo in Yemen. Tre membri dell'equipaggio di una nave mercantile, la True Confidence, sono stati uccisi ieri nel Golfo di Aden da un attacco compiuto dagli uti yemeniti. Si tratta delle prime vittime causate dagli attacchi contro le navi commerciali che attraversano il Mar Rosso cominciati a novembre. Oltre ai tre morti si riportano anche quattro feriti, di cui tre in condizioni critiche. A febbraio gli uti avevano anche attaccato una nave carica di fertilizzanti chimici che è affondata e che ora rischia di causare gravi danni ambientali nel Mar Rosso. Ora sommiamo un po' gli elementi e come dicevo già due giorni fa, ma ancora di più dopo quanto accaduto ieri, l'escalation su questo cosiddetto fronte di sostegno, come lo chiama l'asse della resistenza, sembra sempre più vicina. E sono più che probabili nuovi bombardamenti da parte degli Stati Uniti e Regno Unito sul territorio yemenita controllato dagli uti. Chiaramente spero di sbagliarmi, ma questa è la sensazione. Chiudo parlando invece di un'inchiesta del Washington Post pubblicata ieri che rivela che dal 7 ottobre gli Stati Uniti hanno approvato più di 100 vendite agli armamenti a Israele, per un totale di migliaia di missili guidati, bombe, razzi antibunker, ammi leggere e molto molto altro. E l'ennesima indicazione del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nell'assedio e nel massacro a Gaza è annacqua presentemente tutte le dichiarazioni critiche che giorno dopo giorno i vertici dell'amministrazione Biden rivolgono a Israele per le sue azioni nella striscia, con più di 30.000 persone uccise finora e un numero di feriti ormai vicino ai 100.000. Dall'inizio dell'assedio su Gaza gli Stati Uniti hanno reso pubbliche soltanto due forniture approvate a Israele, ovvero munizioni per carri armati per 106 milioni di dollari e componenti per produrre proiettili per 147 milioni di dollari. Quelle vendite avevano fatto discutere perché l'amministrazione Biden aveva scavalcato il congresso invocando lo stato d'emergenza. Ma nel caso delle altre 100 vendite circa sono avvenute senza alcun dibattito pubblico perché sono passate attraverso il congresso, quindi attraverso una procedura diciamo così regolare. Secondo Jeremy Conindic, ex alto funzionario dell'amministrazione Biden e attuale presidente di Refugees International, la campagna israeliana non sarebbe sostenibile senza questo livello di sostegno da parte degli Stati Uniti. Conindic ha denunciato l'ipocrisia del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti affermando che non è possibile trasferire questo livello di armamenti e fingere di non essere coinvolti nel conflitto. Ora, non ci sono numeri precisi del valore di queste forniture, ma teniamo presente che ogni anno diciamo in condizioni normali, stavo per dire in tempo di pace ma non è mai tempo di pace in Israele, gli Stati Uniti forniscono armi a Israele per 3 miliardi e 300 milioni di dollari e all'inizio del 2024 è stato approvato un pacchetto di quasi 18 miliardi di dollari con discussioni in corso per alzare ancora la cifra. Ecco che il contrasto tra queste azioni e le parole dell'amministrazione Biden diventa ancora più stridente e rafforza le critiche al lancio di aiuti per via aerea sulla striscia da parte degli Stati Uniti, a cui invece basterebbe chiudere i rubinetti delle forniture militari per rendersi decisamente più utili e decisamente più influenti, ma è chiaro che questa di nuovo è una questione di volontà politica che ancora oggi non possiamo ravvisare. Ci risentiamo domani, sempre da Beirut, sempre con gli occhi aperti su Gaza, sul Libano e su tutta la regione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.